Intanto il famoso effetto degli 80 euro non si è visto e i tempi di ripresa dell'economia non sono tempi che si possono misurare in giorni. La ripresa dell'economia, noi siamo reduci da un lungo periodo di riduzione dello sviluppo economico e non possiamo certo sperare che di colpo tutto torni a migliorare. Ci sono solo certi business che possono riprendere in breve tempo e noi non abbiamo molti business di questo tipo. Quindi dobbiamo misurare più che altro la buona volontà e gli intendimenti. Gli aspetti positivi della nostra indagine dicono che gli imprenditori continuano a crederci e questo secondo me è fortemente positivo. Cioè sette anni di purga e penso che bastino, prima o poi deve ricominciare a migliorare.